Inizia sul tracciato di Interlagos, la stagione 2023 di Stock Series, campionato junior della Stokkar. Ora però vediamo lo start di gara 1, subito i 12 piloti cercano di guadagnare qualcosa, ottimo start da parte di Mugiatti. Un po' meno quello di Rimbano, sul 17 che ci partiva a fianco. Rivediamo quello che si è potuto vedere dal muro dei box e anche dalla telecamera posta appena dietro curva 15. L'ultima di questo incredibile circuito, ossia l'autodromo di Interlagos, il più importante, grosso e soprattutto storico del paese. Quindi vediamo subito Mugiatti prendere la testa della corsa, seguito da Rimbano sulla 17. Le vetture procedono abbastanza tranquille formando già un serpentone, forse anche per il loro numero esiguo ma comunque decisamente più ampio rispetto a quello visto durante la scorsa stagione. Questo significa che il comparto giovani in Brasile sta funzionando. Su Park4Me abbiamo l'onore di poter vedere questo nuovo gap generazionale che sta arrivando in Brasile con tanti nuovi talenti in grado di poter, nel breve termine si spera, cambiare un pochettino le carte in tavola delle serie principali, non solo in terra carioca ma anche mondiali. Intanto abbiamo visto in curva 14 il sorpasso di Papazzisis su CBL, mentre anche la lotta per la P3 si fa serrata con all'esterno di curva 15. Artur Gama che riesce a superare il robe e prendere la posizione sul grado di più basso del podio. Compagno di squadra di gara racing. Intanto però vediamo un bloccaggio da parte di Rimbano che rimane un po' più indietro e questo consegna effettivamente una vittoria mai in dubbio a Zezinho Muggiati, primo vincitore della stagione 2023 in Sox Series. Le esultanze sul muretto sono vivide, anche lì semplicemente meccanici, amici, parenti esultano per il primo trionfo del 2023 di Zezinho Muggiati. Un talentino che potrebbe davvero dire la sua in questa stagione. P2 intanto per Rimbano e P3 per Gama. Un successo per V2 ProGP, la squadra più presente nella griglia, con 5 vetture su 12 all'attivo. Ora però è il momento di vedere i semafori spegnersi per la seconda delle tre gare previste questo weekend sull'autodromo Ayrton Senna vicino a San Paolo. Start questa volta decisamente migliore di Rimbano che si affianca e riesce a tenere la stessa fila proprio di Muggiati. Tra l'altro assordante il rombo visto da queste telecamere poste sul muro dei box. Questo invece con un drone aereo semplicemente ci dà davvero l'idea di quanto siano caotici ma allo stesso tempo coordinati i piloti durante lo start di questa categoria. Veramente veramente incredibile. Quindi vediamo l'arrivo alla prima Ayrton Senna per capire chi sarà a prendere la testa della corsa. Muggiati è partito bene ma Rimbano riesce a rimanere di fianco. Questa volta è Rimbano in curva 2 ad avere l'interno e a sfruttare la traiettoria favorevole per imporsi sul rivale. Ricordiamolo Rimbano unico pilota del team RKL mentre attenzione dietro la battaglia anche per la P3 tra due compagni di gara racing. Rube e Gama. Gama va leggermente largo in curva 4. Ora però notiamo che Muggiati e Rimbano si trovano davvero davvero vicini. Saranno vicinissimi sul rettilio del traguardo. Rimbano è leggermente avanti ma la traiettoria favorevole è proprio da parte di Muggiati che recupera la P1 con la staccata alla Ayrton Senna. Ottimo lavoro da parte di Sesigno che potrebbe così andare a vincere anche la seconda gara stagionale. Intanto contatto arrivati al bico dopato. Vediamo Daniel posteriore da parte di Tomaselli colpita da Bedani. Intanto vediamo anche la 98 andare leggermente larga. Il problema è un piccolo incidente che ogni tanto può capitare in queste categorie. Però non sembra avere la possibilità di creare troppo scompiglio. Invece attenzione perché abbiamo una foratura da parte di Barichello Bars e del fumo che esce dalla vettura invece di Tomaselli. Occhio perché è in curva 15 ancora una volta sfrutta la sciagama per imporsi sul compagno di squadra robe. Però ancora una volta Rimbano cerca di inseguire ma quanto pare Muggiati è troppo più veloce. Addirittura va a bloccare diverse volte la stossa. Attacco alla bico dopato con leggero contatto che porta il rivale in testa a coda. Quindi Bedani lascia così CBN. Sicuramente un bloccaggio da parte del 98 di V2 Pro GP che non lascia scampo al compagno di squadra. Sicuramente i vertici non saranno contenti di un attacco che poteva andare in modo decisamente diverso. Quindi CBN in testa a coda. Vediamo che esce fuoco dalle marmite quindi sempre ci siano delle difficoltà nell'avviamento. Ma oramai siamo arrivati sul traguardo. La bandiera a scacchi è stata sventolata. E anche gara 2 è nel segno di Zezinho Muggiati. Si esulta sul muretto tutti festanti, festosi, semplicemente contenti per il risultato ottenuto dal loro idolo. dal loro piccolo, se così lo vogliamo chiamare, eroe in grado di poter cambiare il corso della Stock Series. Sul podio quindi che è una fotocopia di quello di gara 1. Appaiono Muggiati, Rimbano e Gama. Intanto vediamo anche un po' di rifornimenti, un po' di modifiche prima della partenza dell'ultimo appuntamento della giornata. Quello di gara 3 cambio gomme che di sicuro non fa mai male ma è ora che le luci si spengono. Perché inizia l'ultima gara del primo appuntamento di Stock Series e in prima fila questa volta ci sono Magno e CBN. Magno molto lento allo start, rimane completamente inglobato nel gruppone. Rivediamo intanto ancora dalla visuale aerea il pessimo stacco da parte di Cacca Magno che rimane davvero inglobato completamente. Mentre invece davanti a tutti c'è Ugo Sibien. Occhio però all'arrivo all'esterno da parte di De Valle che in uscita di curva 3 potrebbe dire a su. Intanto vediamo molto largo proprio il pilota della 16 alla destina Dolago che rientra un po' più indietro nel gruppo. Oh! Brutto contatto intanto! Stringe decisamente troppo Paparelli che porta fuori dalla traiettoria oltre a De Valle anche Arthur Gama. Decisamente un attacco evitabile. 3 in una curva non ci stanno soprattutto se questa curva è una difficile come la ferradura. Intanto però notiamo che la testa della corsa l'ha ripresa Muggiati e che Robe fa fatica a tenere la posizione. Intanto staccata decisamente ottimistica di Rimbano che blocca e deve cedere la posizione al rivale numero 35. Ha riscatato addirittura l'attacco di CBM che però non ha avuto successo. Occhio però intanto vediamo in uscita un altro contatto proprio tra la 25 e la 9 tra Gama e Magno. un lungo in curva 1 in questa fase da parte di Papazzisis che rientra dietro però a CBM e Vedani. Sicuramente la bagara per la posizione sembra essere particolarmente ampia perde leggermente trazione. Il pilota da 19 che blocca alla destita do lago addirittura si insabbia. Brutto brutto momento per lui. Ha semplicemente subito la pressione di Barichello Bars che era all'interno. Per ora di rivedere la ripartenza bandiera verde. Subito Muggiati rimane davanti mentre Robe segue. Robe segue e in P3 c'è sempre Rimbano. Occhio intanto a Bedani che alla destita do lago cerca l'attacco all'interno proprio su CBM e prende. Quindi la posizione riesce a mettere le quattro ruote davanti. Ma occhio anche a Gama che può dire la sua. Alla ferra dura cerca all'interno il pilota della 9. Ce la fa attacco magistrale. Incrocia il traiettore perfetto da parte del giovanissimo pilota di gara racing. Ora però sembra che anche dietro la situazione vuole cambiare. Occhio a Paparelli che cerca l'inserimento. Intanto vediamo un bloccaggio qui in curva 1. Vediamo che quindi riesce a superare CBM senza troppi problemi. Il pilota numero 218 si viene intanto che va molto largo in curva 2. Battaglia per la P2 che prosegue. Rimbano incrocia con un cambio di traiettoria. Occhio però che la risposta potrebbe non tardare di Robe. Va addirittura oltre i limiti alla destita do lago. Robe e Rimbano arrivano addirittura al contatto in curva 1. Cercano di spingersi. Certo in modo molto maschio. Chiamiamolo in questo modo molto aggressivo. Ma comunque corretto. Non oltre i limiti del regolamento. Ma il padrone di Interlago c'ha quanto pare uno solo. E sul traguardo in P1 taglia ancora una volta. Zezinho Mucciati. Beh, è un 3 su 3. C'è poco da dire. Tre vittorie nelle prime tre gare stagionali per Zezinho Mucciati. Che sarà accompagnato un'altra volta da Pietro Rimbano. Ma anche da Arthur Gama sulla 9. Terzo miglior pilota questo weekend. Insomma, po' di decisamente poco flessibili. Ma che hanno fatto ben capire le gerarchie in pista. Zezinho Mucciati. Tre vittorie. Successo strepitoso da parte del pilota numero 38. Che quindi sporta a casa il primo round. E anche la leadership del campionato. Che hai ragazza mi il primo anno. Che c'è molto fuori.